Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia hanno individuato la gang che domenica notte ha compiuto un raid punitivo contro un 22enne di Bellizzi, culminato con l'accoltellamento del giovane, raggiunto da tre fendenti alla spalla. Sei in tutto le persone pizzicate dalle telecamere, grazie alle quali è stato possibile acquisire anche la fase in cui è avvenuto l'accoltellamento. Le indagini ora proseguono per chiudere il cerchio sulle motivazioni che hanno indotto i ragazzi ad aggredire il 22enne.